Si vince, ma può vincere di Napoli, può vincere di Napoli sul Gonzale. Attenzione che viene fuori ora l'altro spagnolo, niente respinto l'attacco degli spagnoli, anche loro tutti e tre, il rincalzo mentre il francese è out, Lambruschini e di Napoli appagliati, tre spagnoli dietro, Bill che ora affianca Stefano May, Mayhoff che affianca Stefano May, Gugusto e Cotto anche il portoghese, manca la campana signori, attenzione di Napoli va via, e anche Gonzale cerca di tenere, Lambruschini deve accelerare, deve obbligare, bravissimo Gonzale, addirittura obbliga a fermare, Lambruschini che è davvero scollata, Stefano May, Gugusto e Cotto, ha vinto Stefano di Napoli al secondo posto, Gimenez e Gonzale, poi il Mayhoff che è un grandissimo del finale, ultimo e Stefano May, per ultimo, è passato e con lei, speranciato al pubblico, primo, è la prima grande vittoria per Stefano di Napoli al secondo posto, felicissimo, anche una gara eccezionale, Mayhoff che vincontale. Si, una gara veramente... Grazie a tutti!